Alla fine è arrivata una sofferta ma entusiasmante seconda posizione alla quattro ore di spa Franco Orchamp per la Ferrari GTB numero 86 del team inglese Gulf Racing, trascinato da un incontenibile Riccardo Pera. Ancora una volta il 25enne pilota lucchese si è esaltato sui saliscendi del circuito delle Ardenne, sciorinando una rimonta che ha quasi dell'incredibile. Dopo la sfortunata qualifica del compagno di squadra, il pilota gentleman Michael Wright, soltanto nono, in gara la musica è cambiata. Nell'arco delle quattro ore, Pera si è sciroppato ben due stint, compresi gli ultimi 40 minuti, con l'obiettivo di tentare l'impossibile e arpionare un podio che pareva ormai una chimera. Ma giro record dopo giro record e sorpassi da brivido ai danni di Porsche e Aston Martin, Riccardo è riuscito a risalire fino alla seconda posizione. La corsa è stata vinta dagli svizzeri del team Kessel, sempre su Ferrari. Un risultato pesantissimo, visto che adesso la classifica continentale, classe LMGT3, sorride al Gulf Racing Team, risalito dal quinto al secondo posto ad un solo punto dal team ufficiale inglese dell'Aston Martin. Il prossimo appuntamento del campionato d'Europa Endurance è fissato per domenica 29 settembre sul circuito di casa del Mugello, dove si prevede una ricca affluenza di tifosi da Lucca per sostenere il super Riccardo Pera.